ciao a tutti i ragazzi da playdoh game oggi è il primo giorno dopo molto tempo che vado in vacanza quindi ci saranno un sacco di momenti in cui vedrete i posti che andrò a visitare per un paio di giorni ed eccomi qua in mezzo alle pannocchie tante cose intanto zelda si fa il bagnetto cerca da mangiare mangia gli insetti un po di verdure perché è anche vegetariana preferisce le foglie lunghe zelda dov'è il link? 2, 3, 4, 7 2, 3, 4, 7 ciao ragazzi Allora sono al Waiting for Gandalf che io direi quasi come il puledro impennato del Signore Veneri Sto mangiando un sacchissimo e il posto è molto molto carino, veramente Eccoci qua e la tappa di adesso invece è Grado Quindi oggi mi farò un bel bagno, una bella spiaggiata Tempo ovviamente di arrivare in spiaggia perché non so esattamente la strada che dovrò prendere E dopo un paio di ore finalmente in spiaggia, a Grado E' molto molto bella, c'è abbastanza solo anche se sono le 6 passate di sera Ma comunque c'è un sacco di caldo, un sacco di gente, io non vedo un rubo E il mare è bellissimo, più o meno insomma E' molto bello comunque, rilassante, il mare, la spiaggia Il mio primo bagno quest'anno E bene, torno a dormire ragazzi, ciao E c'è un altro gabbiano pronto ad attaccarci Sta solo aspettando il suo momento Sta facendo finta di niente ma in realtà ha un piano ben preciso in mente Intanto il gabbiano disperso, un cuccio di gabbiano, sta cercando i suoi compagni Mentre si è perso su una grande, mentre un adolescente di gabbiano disperso nella grande spiaggia di Grado Sta aspettando i suoi compagni, tutti quanti in cerca di cibo Questo è un esemplare molto raro di gabbiano bianco grigio, detto anche Biangridge La grande crociera per la pesca Lui si chiama Gianni Gianni è stufo di stare sulla spiaggia Vuole tornare a giocare con i suoi simili Non buttarti in mare Gianni, non sai nuotare Vieni qua Gianni Intanto è venuto a giocare anche Luigi con Gianni Bene, è passato un altro giorno Noi ci vediamo la prossima settimana Vi ricordo di iscrivervi, di commentare E di attivare la campanellina per restare sempre connessi con i miei nuovi video Gabbou 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 Gabbou